Gianluca Polizzi, classe 98, esordio in Serie D, una gran bella soddisfazione per tutti, ma penso anche un'emozione forte per te. Sì, infatti è stata una bella cosa, spero si ripeta lo più presto possibile. Chi ti segue da parecchio tempo, come Carlo Stajano, vicino a ogni allenamento della Junior, ha sempre parlato bene di te fin da inizio stagione. Si parla bene di te, raccontaci le tue caratteristiche. Sono un attaccante che cerca di attaccare sempre lo spazio, ma soprattutto che vuole cercare sempre il gol. Ringrazio Carlo per queste belle parole che mi ha rivolto. Che cosa si prova a passare nel giro di pochissimi giorni? Tu hai fatto Juniors, poi Allievi, causa squalifica Juniors e poi prima squadra. Hai risentito di tutti questi cambiamenti in pochissimo tempo? Diciamo un po' sì, però alla fine il calcio è quello che è. Se domenica il mister dovesse chiamarti in causa una partita delicata come quella col Brindisi, tu avrebbe un Polizzi pronto? Sì, sì, sicuramente pronto.